Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Anna Alvaningen Pintus. Scusa, puoi ripetere? Anna Alvaningen Pintus. Ma che bel cognome, un insieme di tante cose. Quanti anni hai? Sette. Vai a scuola? Sì. Dove? Alla Pezzani. Alla Pezzani? Ti provi bene? Sì. Giochi con i tuoi amici? Sì. Cosa fai di bello? Di solito? Di solito? Nel tuo tempo libero, scusa. Di solito nel mio tempo libero coloro. Coloro? Ti piace colorare? Sì. È il tuo libro preferito? Non lo so. Il tuo piatto preferito? La pizza. La pizza. La pizza. Credo che il 99% dei bambini, anche degli adulti, adora la pizza. Qual è il tuo colore preferito? Giallo. Ce n'è un altro? Anche l'azzurro. Ok. Giallo come il sole? Sì. E azzurro come il cielo? No, come il mare. Come il mare? Sì. Che bello. Sono accorto di domande. Parlami della tua famiglia, come è la tua famiglia e raccontami un episodio divertente che hai passato in famiglia. Arba, raccontami un po' della tua famiglia. Hai dei fratelli? Tre. Tre. Tre fratelli? Sì. Di un po', com'è composta la tua famiglia? Com'è composta la tua famiglia, sì. Un neonato che ha zero anni, tra poco ne compri uno, poi ci sono gli altri due fratelli che uno ce ne ha quattro e un altro ce ne ha nove. Sì. E tra poco mio papà compie gli anni a marzo. Tra poco papà compie gli anni a marzo? Sì. Sì. Senti, c'è qualcosa che ti ha... non ho rivoluzionato, non ho bene rivoluzionato in questo caso. Sì. Una cosa... Una cosa che... Un viaggio, una giornata che ricordi... Sì, una giornata particolare che ricordi in modo particolare. che possa essere bella o brutta? Preferirei bella, dai. Sì, mi ricordo un giorno che non era ancora nato il fratellino che aveva quattro anni adesso e che c'ero io e mio fratello con gli occhiali nell'erba, con i girasoli. E quel giorno te lo ricordi tantissimo? Sì. Era un bel giorno? Sì. E' stato divertente? Sì. E' bellissimo.